Prosegue la risalita del Sassuolo, che batte il Lecce al Via del Mare 01 e lo aggancia a quota 27, nessun tiro nello specchio per i salentini, due occasioni nitide. Per i nero-verdi, Falcone negra, la rete a Bayami, appena largo, la capocciata di tre soldi da pochi passi, in mezzo tentativo volo alto di Berardi, ripresa pericoloso a Ubin, col mancino a 65esimo ospite. Avanti angolo Berardi e testa vincente, Trowest, aiutato dal tocco di Yuland, Falcone blocca la punizione di Bayami all'ottantaduesimo. La strevezza divora il pari splendido, incredibilmente fuori dal limite dell'area piccola. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifiche e un commento. Ciao!